Allora, adesso Francine truccherà la Cristine! Hai mai tutto prendi una base, come già ti ho fatto vedere, quindi... Prendi pochissimo di questo... Ma con che cosa? Col dito! Ah col dito, questo? Si... E non passi solo con l'occhio... Sopra? Si, come se mi... No! Da qua e va verso in su... Dio aiutami tu... Francine non sa fare le cose da donna... Francine! E poi tipo che mi è una toma! Poco! Se no questo fa il mamma... mappamondo! Questi anelli! Madonna mi sento troppo! Si, mi stai tipo... Che zitta! Ok, vai bene, stai perdendo un po' di ciglia! Vai, vai! Ok, adesso pensa all'ombretto che mi vuoi mettere! Punta su colori chiari! Colori chiari? Donde? Ok! Oddio, chiari chiari proprio non mi sembra! Tu punta su colori chiari! Quali sono chiari secondo te? Questi, questi! Ok, facciamolo sul roseo! Sul roseo! Si! Come il nostro futuro! Quindi prendo del rosa! Ci soffio sopra! Prendo del rosa! Vi soffio sopra! Stendo il suo occhio languido! Da dentro verso fuori! No! Prima qua e poi... È una manualità! Fai tu! Fai tu! Non lo dì! Non ti conviene! Ti soffi sopra! Perché non va bene soffiarci! Sì! Mi dovrei mettere là quando tu fa quell'occhio! No vabbè! Poi possiamo metterlo un po' più scuro! Un rosa un po' più scuro! Un po' più... Un po' più... Un po' più... Un po' più brillantinato! E dove lo dobbiamo poggiare? Parte un po' più esterna, un po' più su! Mi sento un quadro! È la manualità di un pittore! Si muove! Si muove! Qua dentro mi sono raffreddata! Io so beautiful! La temperatura è... Temperature africane! Dentro casa tua sì! Io so beautiful! Non si vede nulla ancora! Eh infatti dai! Prendi il pennello un po' più scuro! Ok! Pennello scuro! Un'ambulanza! Balletto! Vai! Prova a prendere questo! Eh! Questo è dura! No! Fai che è troppo scuro! Dai dai dai! Poco! Dentro l'occhio magari! Come dentro l'occhio? Dentro sotto! No! Lo devi mettere proprio qui all'attaccatura delle ciglia! Poco! Fino a qui! Ok! Just... Non è una penna! Si sta sgredolando! Si sta sgredolando! Ma come? Ferma! Adesso capisci quando io prima dicevo stai ferma! Ah guarda su! Guarda su! Ma su chi c'è l'acetone? Guarda su! Dai! C'è l'acetone! Non fa niente! Non fa niente! Cosa che hai fatto? Cosa che hai fatto? Aspetta! Il neo da Robert Deliro! Ho bisogno di un fazzoletto! Oh mio Dio! E soffia! Cazzo dei soffi! Oddio! Oh devi chiudere! Ti stai nascondendo! La testa! Io? La tua testa sta nascondendo il trucco! Ma? E ho preso la testa! Tipo un vampiro! Ti stai nascondendo un messaggio! Tranquilla! Ok vabbè! Io direi che come prima volta ci possiamo anche stare! Cioè quindi ne vuoi un po'! Ci hai messo tre minuti! Eh! Ma quando una è bella non c'è niente! Ma qui ne hai messo uno! Fa vede! Sono completamente diversi! No! Non è vero! Dai dove? Qui c'è sotto l'ombretto e qui no! Ah dentro dici? Sì ma... Più interno! Aspetta! Racconta la cazzata! Franz! Shut up! Non si toglierà mai! È troppo dentro! Eh sì! Ho bisogno di un colofchiotto! Dai! Dai! Hai una modalità davvero impressionante! Ho capito! Cioè la malapena riesco a truccare me stessa! Ma non ti trucchi mai! Appunto! E adesso potremmo sbizzar... 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 C'è per mascare! Eh! A finire! Sì! Vabbè che altro vuoi? Sotto? La matita sotto? No! Dentro! Eh! Fuori! Lo stesso ombretto che hai sopra a scuro? Sì! No! Quella lì non è matita! Ah! Ah! Ok! Sì! Mi devo togliere la Nell! Oddio! Oddio! Tipo prendeva tutta la scena! Ora veramente ne vedremo delle belle! Andiamo a portarlo fino a giù! Ok! Questa è un tic ragazzi! Guarda su! Come pretendi di fare? Oddio! Vedo tutto appannato! Fra non puoi farlo da quassù! Cioè devi... Da giù? Eh! Ah! Capito! Cioè ce l'hai proprio buttata! Non soffio eh! Cristo! Ciao io sono Francine e di solito non faccio queste cose! Se non l'avevate capito! No io c'ho pure che te cieco! Ma così mi scegli! Ok! Fa me sedere! Ho visto l'ugola! Dai! Ho capito! C'è nessuno! Aspetti io voglio un po'! Che c'entrare la scena! Che lei che senta! Questo è vero amore! You're beautiful! Grazie! Mi sto senti male! Non so cosa abbia fatto! Ehm! 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 Nessuno! Se ne sarebbe da dire! Quindi se dici così è qualcuno di negativo! Quindi non hai la cosa meno in cuore! Ma tu sei bella! Non hai bisogno di tutte queste cose! Mi hai lasciato di date uno! Allora! Questo qui è tutto ciò che io posso fare! Non posso assolutamente fare niente di più! L'ho fatto solamente per amore della mia amica! Allora! Perché... Lei merita il meglio! E' caputo! Ciao non sei rumore! Alla prossima! Ciao! Mai più!